Eccoci al terzo video di questa mini serie di tre video sul piano d'accumulo, sono sempre Mike Zillo di Amica Borsa e in questo video andremo a vedere su quali monete andare a ripartire il proprio piano di accumulo mensile e poi il perché, cioè qual è l'importanza di avere una frequenza di acquisto delle monete. Allora, partiamo da questo secondo aspetto, il piano di perché è importante avere una frequenza di acquisto nelle criptomonete, ma è un discorso che vale in generale, tanto che questo tipo di discorso l'ha fatto ancora al tempo, un po' di decenni fa Warren Buffett riferendosi al mercato azionario. Quindi Warren Buffett cosa sosteneva? Se noi facciamo una buona analisi fondamentale, andiamo a trovare delle aziende che siano valide, che siano sane, che abbiano anche una buona progettualità e che quindi stiano sviluppando la loro attività aziendale, queste sono aziende su cui può valer la pena valutare di investire. La stessa cosa la facciamo nelle criptomonete, quindi troviamo delle criptomonete che abbiano dei progetti sani, seri, che si stiano sviluppando da un po' di tempo a questa parte e che finora abbiano abbastanza rispettato le scadenze previste dalla roadmap, queste potrebbero essere le criptomonete più indicate per far parte del nostro piano di accumulo. Quindi quelle criptomonete che a distanza di qualche anno potrebbero aver dato anche un ritorno percentuale interessante o comunque essere ancora in vita e che magari rispetto a Bitcoin, che ha una capitalizzazione di mercato molto grossa, la più grossa in questo momento e che quindi di fatto è soggetto a una volatilità inferiore rispetto alle altre criptomonete, altre criptomonete che possono essere considerate attualmente un pochino secondarie possono darci delle enormi soddisfazioni da qua a qualche anno. Come ho detto negli altri video non sono qua per dare consigli di investimento ma per proporre un metodo di lavoro, quindi intanto ti voglio condividere quello che faccio io, quindi ogni mese vado a comprare delle monete perché in questo modo vado a mediare il rischio che mi accolgo con le criptomonete. Quindi abbiamo visto che nel primo video con il sito che va a darci la proiezione del nostro portafogli, nel caso avessimo comprato mese per mese o settimana per settimana Bitcoin da un po' di anni a questa parte, avremmo visto che in tanti scenari saremmo comunque in profitto. Perché? Perché andando a comprare mese per mese in un mercato in salute come quello che è quello delle criptomonete, andando a comprare nello scenario come abbiamo visto nel video numero 1 Bitcoin, che è la moneta attualmente più in salute secondo me del mercato, ci proteggiamo comunque dal rischio di annullamento del prezzo o comunque dal rischio che alcune criptomonete vadano a sparire nel mercato, perché Bitcoin è la numero 1, quindi dovesse sparire Bitcoin potremmo avere dei grossi problemi per tutto il resto del mercato. Detto questo, quindi andando a comprare a scaglioni noi ci stiamo quindi mediando il rischio, come diceva Warren Buffett di fare col mercato azionario. investi sul mercato che è reputo in salute, dividi il profitto, dividi il rischio per ogni mese con una certa frequenza, con una certa cadenza e vedrai che ti troverai un buon risultato, con buona probabilità ovviamente, ti troverai un buon risultato alla fine del periodo di raccolta e di accumulo. Detto questo, quindi, com'è che sto diversificando il mio piano d'accumulo? Ovviamente la cifra più grossa che è destino a questo piano d'accumulo in cripto è in Bitcoin, la seconda più grossa che dedico a questo piano, questo pack cripto è in Ethereum, perché ovviamente è una moneta con delle grossissime potenzialità sulla base della quale in questo momento si stanno depositando sempre più volumi, parliamo di centinaia di milioni di dollari come controvalore, per la finanza decentralizzata, la cosiddetta DeFi, DeFi, in corretta pronuncia inglese, quindi Ethereum è il secondo investimento che io faccio ogni mese, quali sono altre monete che vado a comprare? Beh, vado ad analizzare settori di business, quindi ad esempio se esistono degli exchange di criptomonete che hanno le loro monete, i loro token nativi, come potrebbe essere Binance Coin, Bankera ad esempio, con il Bankera token, abbiamo sicuramente KuCoin, con la moneta KuCoin Shares e tante altre di fatto, probabilmente anche Huobi, Huobi token dovrebbe esistere, quindi per farti un esempio esistono un sacco di token collegati all'exchange, personalmente sto accumulando Binance Coin, perché? Perché ritengo Binance uno dei più grossi exchange di mercato in questo momento mentre parlo, ma soprattutto un exchange che fino ad oggi ha rispettato le tappe che aveva promesso, insomma che avrebbe realizzato, quindi il Binance Labs, il fatto di averla, è stato uno dei primi exchange a creare la possibilità di fare le ICO tramite exchange, le cosiddette IEO, Initial Exchange Offering, e ha un incubatore non indifferente di start-up collegate alle blockchain, ha il Binance Charity, quindi una sezione dedicata alla beneficenza, ha introdotto i futures, il margin trading, quindi tutte cose che aveva preannunciato da anni a questa parte che sarebbero state fatte e alla fine le ha fatte davvero e anche bene, perché comunque i volumi che attualmente sono in circolazione sui Binance Futures sono davvero notevoli e consistenti. Quindi il Binance Coin è una moneta che sto accumulando perché ritengo Binance un ottimo progetto. Accumulando già Binance Coin però non mi sto accumulando anche altri token nativi di altri exchange. Perché? Perché preferisco diversificare il mio investimento anche in funzione del settore. Un altro settore possibile potrebbe essere quello dei giochi online, fra cui possiamo annoverare TRX, quindi TRON, e NGIN Coin col token ENJ. Questi due token ad esempio sono entrambi secondo me molto validi e in questo caso li sto accumulando entrambi. Perché? Perché nonostante facciano parte della stessa sezione, hanno alcune differenze l'uno dell'altro che gli trasmettono alcune peculiarità non da sottovalutare. In particolare NGIN Coin è una piattaforma di giochi online multiplayer prevalentemente. TRON con la sua token TRX ha creato la sua blockchain nativa, la TRON blockchain appunto, ha appena rilevato Steemit, un grosso social network di pubblicazione di materiale dedicato appunto alle criptomonete in particolare. E poi si è specializzato in applicazioni della blockchain per fini di gaming, quindi di scommesse, scommesse prevalentemente online. Quindi giochi d'azzardo stile casinò, quindi roulette, blackjack, altri giochi insomma che non frequento molto onestamente perché non è che mi interessino, però esistono anche questi e sono possibili e sono giocabili proprio tramite le applicazioni, le dApps residenti sulla blockchain di TRON. Altri token possibili quelli possono essere? Beh, quelli ad esempio basati sui pagamenti. Quindi conosciamo Litecoin, conosciamo Electroneum, Bitcoin Cash, sono tante monete, criptomonete o token che comunque sono state create proprio con lo scopo di sostenere i pagamenti. Ad esempio fra queste io sto accumulando Litecoin perché lo ritengo comunque un buon progetto. Electroneum l'avevo preso in ICO, qui con un investimento ovviamente irrisorio, francamente lo sto ancora tenendo. Avrei avuto la possibilità di capitalizzare un 20 per sull'investimento nel momento della bolla a fine 2017, non l'ho fatto perché comunque ho pensato che Electroneum potesse avere una buona prospettiva e quindi diciamo che ho ottenuto l'investimento in cassa per il semplice motivo, per la semplice curiosità di vedere quello che sarebbe successo ad Electroneum nell'arco del tempo. Quindi per questo video siamo quasi giunti alla fine degli argomenti che volevo approfondire con voi. Se non dirvi che comunque il piano d'accumulo va bene, l'importante è farlo il piano d'accumulo. La cosa più importante secondo me è avere Bitcoin e Ethereum all'interno del proprio piano d'accumulo perché sono ovviamente per ovvi motivi le criptomonete che danno le maggiori prospettive sia in termini di sicurezza sia anche in termini comunque di profitto da qua a qualche anno. Perché hanno una buona capitalizzazione, hanno Ethereum in particolare, è un'ottima base per la creazione di smart contract sulla sua blockchain e sono comunque dei progetti in continuo sviluppo e in continua evoluzione. In particolare mi riferisco a quello di Ethereum. Bitcoin è una blockchain poco utilizzata ma di fatto a mio parere e non solo diventerà il parametro di riferimento del mondo delle criptomonete diventando quello che noi definiamo l'oro digitale. Quindi semplicemente un punto di riferimento, quello che era l'oro fino al 1971 come punto di riferimento per le monete che avrebbe messo lo stato. Il mio consiglio quindi è di valutare seriamente se si voglia, se si voglia intanto dedicare qualche minuto ogni mese per la creazione di questo piano d'accumulo, dedicare qualche euro ogni mese per la creazione di questo piano di accumulo. In sovrimpensione trovate la mia email, potete contattarmi tranquillamente via email e se la domanda sarà sufficientemente facile vi risponderò anche in tempi rapidi, altrimenti magari mi darò un pochino più di tempo per darvi una risposta un pochino strutturata. L'idea di contattarmi direttamente quale deve essere? Beh quella ovviamente di confrontarsi con una persona che sta già da anni facendo questo piano d'accumulo, che ne ha parlato con tante altre persone e che quando tante persone mi stanno già ringraziando per aver consigliato di iniziare questo piano d'accumulo per tempo, prima che Bitcoin in questo momento mentre parlo siamo in zona di 9.900 dollari, abbiamo iniziato a comprare Bitcoin con queste persone quando erano in zona 3.500, quindi questi ragazzi hanno sicuramente fatto il 3x su una parte del capitale che avevano comprato all'inizio del loro piano d'accumulo, quindi stanno sicuramente avendo un bel risultato. Non sappiamo se Bitcoin domani scenda o salga, sappiamo solo che noi continueremo a comprarlo e ho delle prospettive molto interessanti che non intendo condividere in questo video ma ritengo che Bitcoin possa crescere ancora davvero tanto come prezzo, non ce n'è alcuna certezza, ma la certezza che c'è è che la tecnologia che c'è la base delle criptomonete è assolutamente rivoluzionaria e decisamente può avere un impatto importante in tanti settori anche di business, non solo di speculazione. Il mio augurio è quindi che anche voi possiate valutare coscienziosamente di iniziare e se iniziare il vostro piano d'accumulo in criptomonete. Per questa miniserie è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, spero che vi siano piaciuti questi video vi chiedo semplicemente di lasciare un like a questi video così da intanto aiutare altre persone a vederli aiutandomi a indicizzare questi video su YouTube in modo che possiamo raggiungere più persone con queste informazioni in sovrimpressione trovate ancora il mio indirizzo email a quale potete contattarmi e sotto nella descrizione del video vi inserisco altre informazioni che ritengo molto interessanti per avere e per iniziare la vostra avventura in questo piano d'accumulo con le criptomonete per questa miniserie è tutto, un caro saluto da Mike Zillo e ci vediamo ai prossimi video, ciao!